Gianni Pasin Io vi ringrazio di questa opportunità di presentare un libro, ma ringrazio soprattutto dell'opportunità di poter parlare del futuro, perché è bello ricordare il passato, però una critica che fanno a volte agli anziani, e io mi considero tra loro, è quella di guardare sempre in modo un po' nostalgico al passato, che bello che era, che bello che era. Sì, era bello, ma la vita era anche molto dura, però abbiamo di grandi insegnamenti del passato, ma dobbiamo guardare al futuro ripercorrendo i valori del passato, non ripiangendoli. E pensiamo alla bicicletta. La bicicletta una volta era una rottura, era il solo mezzo di trasporto. Alla domenica tutti sognavano di salire in macchina. Oggi la vita, il benessere che ci ha trasformato, obnubilato, che ci ha fatto distruggere l'ambiente, reclama. Ed oggi noi riscopriamo la bicicletta, quindi dobbiamo imparare dal passato per rendere un mondo sostenibile. Io in questo ho cambiato anche io idea, perché dall'averlo fatto a motore, adesso dico vorrei farlo in barca, come rispetto verso l'ambiente.